Intanto facciamo partire la registrazione e vediamo un attimo le nostre iniziative. Vuoi presentarle tu Carlo? Sì, buonasera a tutti. Abbiamo due iniziative abbastanza ravvicinate. Una è quella di sabato prossimo, 16 marzo, dove parleremo di cibo, di alimentazione, ma sotto una forma diversa della solita, sull'energia vitale degli alimenti, perché sappiamo bene che tutto quello che esiste è vibrazione, tutto quello che esiste è energia. Già Einstein nei suoi tempi parlava, se vuoi capire come funziona il mondo devi vederlo attraverso l'energia, attraverso la vibrazione fondamentalmente. E anche il cibo non ha solo una valenza dal punto di vista vitamine, minerali, quindi solamente dal punto di vista fisico, materiale e biochimico, ma anche una valenza dal punto di vista vibrazionale. Influisce sul nostro corpo in maniera diversa se mangiamo cibi che hanno un'energia vitale alta, come quelli della locandina, sono cibi crudi fondamentalmente. Molti cibi cotti o comunque tutte le proteine animali, per esempio, hanno sicuramente un livello vibratorio basso. E cosa succede? È che quando mangiamo cibi con un'energia vibratoria elevata, ci aumenta la vitalità. Quando hanno un'energia vibratoria bassa, ci abbassano la vitalità. E quindi quello che faremo in questo laboratorio, questo prossimo sabato al mattino, sarà come faremo vedere come misurare questa energia vitale, come misurare la compatibilità dei vari cibi con noi stessi. E quindi ci può dare uno strumento sicuramente molto importante per orientarci in maniera più consapevole sulla scelta dei cibi migliori per la nostra salute, per il nostro benessere. Prenotazione al 351-582-8819 ed è obbligatoria la pronotazione. Questo è uno. Poi venerdì di settimana prossima, il 22 marzo, hanno detto prima che siamo in zona Bergamo, quindi sono iniziative, queste qui, per chi abita non molto distante da Bergamo, asseriate che il paese è proprio attaccato a Bergamo, limitrofo. Venerdì 22 marzo abbiamo questo appuntamento molto molto importante, l'inquinamento invisibile, perché una delle problematiche che si possono avere oggi è dovuto all'inquinamento molto elevato. Bergamo è stata una delle prime città ad innalzare in maniera esponenziale quelli che erano limiti precedenti, che potrebbero essere quasi accettabili. Quindi diciamo adesso i limiti li hanno stati tantissimo e quindi dal momento in cui non si riesce a bloccare questa crescita esponenziale, è bene conoscere quelle che sono le cose, è bene utilizzare dei meccanismi di tutela della nostra salute, perché a lungo andare chiaramente un livello di esposizione, un elettromagnetismo molto alto ci può creare in certi soggetti, particolarmente le problematiche. Vedremo due personaggi di altissimo livello, uno è il professor Nicola Limardo, che è un esperto in tecnologia quantistica, è stato collaboratore del CERN di Ginevra, docente di medicina ambientale preventiva e tante altre cose, diciamo che ci darà il suo taglio dal punto di vista della fisica, mentre il dottor Francesco Oliviero ci darà la sua posizione dal punto di vista medico, diciamo, e vedremo un attimino come tutelarci al meglio rispetto a questo elettromagnetismo sempre più invadente, diciamo. Queste sono le nostre prossime due iniziative, le prenotazioni sono sempre al 351-582-8819 e poi ci vediamo. Un messaggio Whatsapp, ok. Adesso presento brevemente Emiliano, anche appunto se chi è collegato probabilmente già lo conosce. Emiliano Moroni è counselor sistemico e life coach, si occupa di formazione e crescita personale da oltre 20 anni, motivatore e poeta, facilita i percorsi trasformativi utilizzando percorsi quali la PNL, la fisica quantistica applicata. In quest'ultimo periodo, se non ho capito male, hai fatto un'ulteriore evoluzione, che comunque di cui non so se ho capito bene, comunque ce ne parlerà direttamente Emiliano e do la parola a lui. Ecco, per le domande scrivetele pure in chat, perché abbiamo zittito i microfoni per evitare che ci sia il sottofondo che disturba il relatore e poi noi le passiamo a Emiliano. Ok, grazie Emiliano. Prego. Ah, aspetta perché allora, avendo zittito, chiedi di attivare l'audio. Eccomi, perfetto. Ecco, ti avevo ammutolito. Scusate. No, poteva essere una nuova tipologia di... Di comunicazione. Di conferenza, allora. Con i gesti. Ci poteva stare. Esatto, amando la PNL, linguaggio non verbale è la cosa principale da captare, quindi ci stava, ci stava come esercizio. Intanto grazie Melissa, grazie Carlo, grazie all'Associazione Onda Vitale per questo spazio, per questa disponibilità, come sempre, siete molto carini. Allora, quando dicevi c'è stato un cambio, un'evoluzione. Anteriore, ho definita sì così, no? In realtà no. Sì, ma no. Allora, mi spiego meglio. Per quanto riguarda la personalità, abbiamo bisogno di pensare a un'evoluzione, a uno spostamento in una linea temporale. Per quanto riguarda la coscienza, è lì che osserva, a volte entra di più, a volte non le permettiamo di entrare di più. Sicuramente a ottobre, grazie a un paio di eventi, di prove abbastanza intense che ho vissuto, ho probabilmente liberato altro spazio nel file della memoria coscienziale e probabilmente è entrata a maggiore qualità coscienziale e si è spostato un po' di più una parte di me attiva. Quando dico me attiva, intendo una parte magari maggiormente connessa alla parte egoica o egocentrica e c'è stata una maturazione. Una maturazione, come tutti noi sul percorso, ci sono dei momenti in cui c'è più stasi, dei momenti in cui c'è un'accelerazione e spesso, lo ripeto, ma non tutti sono in assonanza con questa cosa, spesso grazie delle prove personali, individuali o collettive abbiamo l'opportunità di fare dei passaggi, dei click, eccetera. Quindi sì, diciamo che una morbidezza maggiore, una pacatezza maggiore, ecco, mi è arrivata questa cosa che avevo già ma non era così presente, ecco, non era così stabile, non era stabilizzata, ecco, diciamo così. C'è stata anche l'apertura del canale Telegram, Essere Coscienza, quindi l'anno scorso c'è stata anche questa novità e pare che sia una cosa gradita per chi sta a leggere o ascoltare ciò che ho da dire, ecco, soprattutto a leggere perché sto approfittando di scrivere anche in funzione del magari, poi mi ritrovo i testi pronti per magari un librettino, ecco. Allora faccio due lavori in uno, ecco, mi diverto a scrivere in connessione con ciò che la coscienza mi mette nel cuore da condividere, a me stesso innanzitutto, poi questa cosa magari può essere utile agli altri, e di conserva mi ritrovo lo scritto magari già pronto. Già pronto. Prima hai nominato l'evento che fate venerdì, due persone che conosco, il titolo è Inquinamento Invisibile. Inquinamento Invisibile, esatto. Ecco, io da tanto tempo mi occupo di Invisibile, ma non di parlare con i defunti, ecco, di proprio aprirci a questo settore chiamato Invisibile, dove tutti quanti siamo immersi in questa invisibilità, ma magari non ci hanno insegnato come cogliere i segnali della coscienza nell'invisibile, dentro e fuori di noi. Ecco, questa è una parte che faccio in qualsiasi seminario, ma soprattutto in quello che stiamo proponendo, che non ha un titolo dove la parola invisibile è espressa, è scritta, ma è, spero, sottintesa, perché le armi spirituali della fonte in noi prevede proprio una base di connessione con l'invisibile, e quindi una base di momentaneamente non essere noi stessi agganciati alle nostre idee, per captarne altre, per essere nell'ispirazione, per essere nell'intuizione e per essere nel nuovo, abbiamo l'invito da parte della coscienza di provare a essere qualcosa di diverso, cioè lei che legge dentro e fuori il campo. Abbiamo fatto una conferenza, mi pare, proprio sul campo quantico. Mentre le armi spirituali della fonte in noi è quest'idea di, in questo tempo, un po' per molte persone è complicato, o difficile, o tosto, o veloce, o pieno di cose, se non attiviamo in una maniera leggera un reset e non attiviamo un alleggerimento dei file della nostra zucca e delle nostre emozioni, dei nostri sentimenti, dei nostri ricordi, delle nostre aspettative e quant'altro, difficilmente riusciamo a vivere questo tempo in maniera serena e rilassata, ma lo viviamo in maniera sconclusionata, stressata, ansiolintica, eccetera. Il seminario prevede il fatto di comprendere che siamo fondamentalmente guerrieri e guerriere della sorgente e per guerriero e guerriera non intendo il coltello in mezzo ai denti per essere pronti alla battaglia, al combattimento, quello a mani nude, alla reazione. Intendo il combattimento innanzitutto, la fine del combattimento con noi stessi e di conserva il ritrovare la pace in noi stessi. Mi rivolgo infatti al tema delle armi spirituali proprio per comprendere che la prima battaglia da concludere è quella che va proprio pacificato il rapporto fra me e me. Quando pacifico il rapporto fra me e me, entra coscienza, entra la parte più spirituale, entra la fonte, entra la sorgente. Da quel momento è tutto un allenamento a stabilizzare. Come dicevo prima, quello che mi è accaduto qualche mese fa, non ho avuto un risveglio di coscienza, che ho avuto quello più forte nel 2001, ma ho avuto un'ulteriore stabilizzazione di quel processo che va avanti a tappe e a step. Le armi spirituali, magari qualcuno potrebbe asserire, oltre il torto e la ragione, perché armi? Buona domanda, ecco. Perché armi? Perché spesso ho immaginato che ci possiamo sentire meno in questa grande matrice, ci possiamo sentire che ci manca qualcosa, che ci manca strumento o strumenti atti e utili da applicare nel momento, mentre la battaglia fuori è ben descritta dall'Ucraina, da Israele, da questo e quest'altro. Non mi voglio dilungare con ciò che leggiamo, se leggiamo il giornale o la televisione, o ci informiamo un pochino in maniera alternativa. Comunque le notizie sono quelle, ecco. Vere o non vere è che effetto poi hanno in noi, cioè è questo il senso. Cioè stiamo combattendo verso il sistema, stiamo combattendo contro di noi quanti conflitti sono ancora attivi, quante ferite sono ancora attive, quanti traumi sono ancora attivi. Quindi portare cura e attenzione a questi aspetti è un tema superimportante. Ma le armi spirituali, ben descritte anche in diversi Vangeli, non solo i classici ma anche gli apocrifi, ma anche in testi gnostici, ci descrivono. Poi vabbè, io ho amato sintetizzare, come sempre faccio, un po' di parte quantistica, un po' di parte di Vangeli, un po' di parte sistemica, un po' di parte di PNL, non separo mai nulla, ecco. Poi a seconda delle persone che mi trovo davanti, la cosa può prendere una linea piuttosto che un'altra ascoltando la coscienza, ecco. Il punto chiave è arrivare a avere un dialogo costante con la coscienza. Noi siamo coscienza, lo siamo sempre stati, lo siamo e sempre lo saremo. E questo è oggettivo dentro di noi. Sembra strano quando uno dice, ma come posso avere un dialogo costante con la coscienza? In realtà lo abbiamo da sempre, il dialogo costante con la coscienza, ma non ci siamo allenati magari bene a comprendere bene com'è la voce della coscienza dentro, che qualità ha, come si esprime, quanto è nobile e elegante è e quanto vorrebbe essere fusa con la nostra mentalità momentanea, con la nostra forma mentis e quali sono i veri desideri della fonte. La coscienza ha amato appunto chiamare armi spirituali della fonte in noi proprio per, se io avessi detto le armi spirituali della fonte, parliamo delle armi spirituali in genere della fonte, no, le armi spirituali della fonte in noi, cioè noi questi strumenti già li abbiamo. Infatti si dice che è un processo di ricordo, il processo di risveglio è anche un processo di ricordo. Forse una mia funzione in questo momento, non so per quanto, ma finché mi diverto a fare quello che faccio, lo faccio, è quello di captare e condividere, identificare i segnali coscienziali oltre le identificazioni mentali per portarli un pochino più in basso su questo piano e condividerli con pacatezza e semplicità. Forse questo è una delle cose che mi riesce da fare, ecco. Come dico sempre, non so fare milioni, miliardi di cose, due o tre le ho un po' imparate, ma perché le ho un po' imparate? Perché mi sono dedicato a questo e come chi si dedica tanti anni alla cucina, io faccio veramente, se si può dire, schifo a cucinare, proprio super basico, ecco, non mi sono mai dedicato, so che mi piacerebbe dedicarmi, un giorno magari mi dedicherò, lo so che un giorno magari mi dedicherò. Mi sono dedicato a altro, ho avuto il tempo, me lo sono cercato, l'ho voluto il tempo, vivere l'invisibile in me, dallo scrivere poesie in più di vent'anni, da dove arrivano quelle parole, mi è sempre piaciuto capire da dove arrivassero le parole, e perché arrivano quelle parole, e perché le colgo. È come se nel mare magnum coscienziale sia pieno di parole. Poi, quali parole becco? Quali parole faccio scendere? È come se le parole cercassero noi. Ci sono delle parole che cercano Melissa, delle parole che cercano Flavio, delle parole che cercano i partecipanti questa sera. Ci sono delle parole proprio per noi, ma non sempre le portiamo giù. Ecco, quello è un ottimo esercizio per comprendere quale parole sono destinate a noi, che ci stanno cercando, e che vogliono essere espresse da noi. Amo le parole. Infatti, in una parte del seminario, allora, descrivo magari un attimo in pratica cosa avverrà nel seminario. Seminario è proprio da semina. Ognuno l'un l'altro semina qualcosa. La coscienza ama seminare nei nostri cuori, nel buon terreno, come nella parabola del buon seminatore, dove la parola può essere o sui rovi, può cadere nei rovi, la parola seme, andare nei rovi, andare sullo sterrato, andare nel cuore della persona, ma poi l'antagonista passa e dopo un po' porta via l'attivazione del regno dei cieli in noi, come si suole dire, o con la volontà, l'applicazione momentanea e l'apertura, come avviene in un bambino, dei bambini appunto, e il regno dei cieli, con quell'apertura e spontaneità, la parola, il seme, come descritto nella parabola, attecchisce. Quindi, quello che stiamo dicendo questa sera è come se già fosse il seminario stesso, non disgiungo mai una presentazione, è come se fossimo già dentro al seminario. Le pause sono molto importanti, faremo tanti esercizi pratici, il seminario per il 73,8% pratico, e per il 22,3%, adesso volevo fare una battuta sulle percentuali, mi sono perso, è molto pratico, molto pratico, si parte dalla comprensione del silenzio e della sua applicazione nel quotidiano, si passa all'attivazione di cos'è, si parla tanto di amore, della qualità dell'amore, ma applicarlo verso noi stessi e verso gli altri in maniera pratica, con un esercizio, un paio di esercizi pratici, penso che sia molto utile, visto che il messaggio di Yeshua si basa su ma il prossimo tuo come te stesso, ribaltato, è quanto mi amo e di conserva, quanto sono in grado di espandere l'amore verso gli altri, chiunque sia quest'altro, si passa all'attivazione del perdono che spesso sembra averlo fatto, ma non è così scontato, passiamo a delle pratiche che derivano da altri versetti, non mi dilungo adesso sui versetti, ma che rileggendo i Vangeli classici apocrifi con la coscienza attiva e sempre più stabilizzata con il dialogo costante con lei mi ha indicato quali versetti vibrano maggiormente di spirito e quali meno e mi sono dedicato a captare questi versetti e renderli poi fruibili in una lettura coscienziale proprio perché sono delle pratiche profonde, trasformative, possono essere visti a livello quantistico, possono essere visti a livello di PNL, possono essere visti a livello di arma spirituale per l'appunto. Tornando all'esempio di ama il prossimo tuo come te stesso, stiamo parlando di fisica quantistica, stiamo parlando di depolarizzazione, stiamo parlando di rottura della dualità, stiamo parlando di amore incondizionato, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi come un versetto scritto centinaia di anni fa può essere sintesi di tantissimi punti di osservazione, ma ci interessa qual è la sua applicazione dentro di me in ogni istante? Perché poi il tema è questo, i corsi sono tanti, milioni di milioni, chi è sul percorso ne ha fatti tanti, non perché sto dicendo questa cosa per attirare maggiore attenzione, se tutti noi facessimo veramente un buon lavoro trasformativo alchemico dentro di noi non servirebbero i corsi di Melissa, di Emiliano, di quello e di quell'altro proprio perché probabilmente le persone andrebbero in autonomia spirituale, in un auto risveglio, in un auto illuminazione, ma probabilmente è ancora un momento in cui si ha bisogno di un'osservazione esterna o di una facilitazione esterna. Ecco, per concludere, armi spirituali possono essere di diversa tipologia, l'importante è comprendere un versetto, lo nomino questo, mi pare che sia Efesini 6 e qualcosa, dove la nostra battaglia non è contro carne e sangue ma contro le potenze, le potestà e contro le energie e i dominatori di questo tempo e di questa età. L'ho approssimato un attimo, ma ci fa comprendere come c'è un livello dove necessitiamo ancora stare in polarità con l'attacco e quindi perché è arma? Perché devo contrattaccare un attacco. Anche Neo all'inizio attacca e si difende con gli Smith, poi comprende che gli Smith sono una parte di sé e sono pura informazione coscienziale e quindi può integrare qualsiasi aspetto dentro di sé, non ha più bisogno di difendersi da nulla. Quello è lo scopo finale del seminario, cioè passare tante armi anche di difesa ma poi andare oltre l'arma di difesa perché quando divento l'invisibilità, quando divento uomo o donna invisibile, quando sono uno con la coscienza, da cosa mi devo difendere se sono il tutto o il nulla nello stesso istante? Quando comprendo che posso essere particella e comprendo che posso essere onda nello stesso istante, da cosa mi devo difendere e proteggere? È ancora un modello di qualche decennio fa e va benissimo, stiamo, le cose che condivido sono un passaggio, come diceva Braden, tra i mondi, quindi c'è un mondo che sta finendo con tecniche che per alcune persone sono ancora utili e in parte le condivido, ma poi è tutto molto semplice quando divento coscienza, in realtà lo sono già stato, ma divento coscienza è una metafora per comprendere che diventiamo più coscienza e meno ego, e meno il nostro nome, e meno la personalità, carattere, eccetera. in questo nuovo stato di coscienza ho ancora armi spirituali, dalla presenza, alla meditazione, al respiro, al dedicarmi a me stesso, a non fare troppe cose, a non correre dietro le cose, perché quello è più ego, che ti fa correre dietro, poi dici, ma dove sto correndo? Fare cosa? perché ti fa perdere poi la qualità del tuo essere, ti fa perdere quella qualità che vorresti mantenere, è come dire faccio una meditazione e poi litico con mio marito, che cosa ti è servito meditare se poi non porti quella pace nel quotidiano? Avendo meditato per tanti anni, non è che non medito più, ma poi c'è un passaggio di fusione, con quello che fai, diventi la meditazione, diventi il silenzio, diventi la coscienza e quindi l'arma spirituale sei tu, tu diventi l'arma spirituale, diventi inattaccabile, diventi inafferrabile, diventi intoccabile, diventi diventi Dio fondamentalmente, diventi la fonte qui, diventi la sorgente, ma non è che diventi Dio, allora divento Dio, una settimana da Dio, Jim Carrey e allora pensi di fare chissà quale cosa, no, sempre profilo basso, umiltà profonda e sapere di avere strumenti, quando siamo shiftati nella parte mente, mi arriva una paura, sto affrontando un periodo pandemico, sto affrontando una guerra polarizzata, sto affrontando delle cose che vengono veicolate, che probabilmente verranno messe come legge nella società, eccetera, perché spesso si parla di queste cose, le paure principali poi alla fine sono quelle che sono attaccate alle nostre paure primarie, una volta disattivato il disattivabile, cosa che faremo, un'arma spirituale, è disattivare le paure primarie, ciò che rimane è l'essenza, ciò che rimane è il sé, non il sé, ma il sé, il sé è il sé, il ma è il dubitativo, un'arma spirituale è, tra virgolette, quella che gli antichi chiamavano lotta al dubbio, la lotta al dubbio è quella lotta che poi lotta non è per la coscienza, ma per far comprendere, è quando arriva un dubbio spesso è limitativo, è limitante, esiste un'ottava superiore del dubbio costruttivo, cioè osservo una cosa e provo ad osservarla in una nuova maniera grazie a un dubbio costruttivo, ma spesso il dubbio ci porta a indietreggiare, ci porta a dire magari anche no, a non tentare, a non fidarci, a non lanciarci, le armi spirituali è la fonte in noi, una delle armi principali, faremo un esercizio importante, è quello di diventare la fede, si parla tanto di dicare, di provare ad avere fede, diventare la fede è tutto un altro paio di maniche, è come incarnare il coraggio, e come ecco, un mio ruolo è quello di incoraggiatore, questo è un mio ruolo da tanto tempo, tu prima l'hai chiamato motivatore, ho usato un altro termine, ho fatto motivazione per tanto tempo, facevo motivazioni a ragazzi nei villaggi, lo facevo come clown terapeuta, non ho mai smesso di fare questa cosa, che mi viene, vado a prendere la brioche al bar, racconto la barzelletta, se vedo che l'energia è un po', è dalla signora, c'è l'altra signora anziana, dai, cerco sempre di portare buon umore, ecco, mi viene spontaneo questo, e penso che sia un'altra arma spirituale, ce ne sono tante che condivideremo in quelle in quelle 38 ore, no, 8 ore, una giornata, 10, 12, sì, ok, eccomi, ho fatto un intro, sì, allora, grazie Emiliano, ricordo che poi metterò la locandina, il seminario di Emiliano sarà a Seriate, in provincia di Bergamo, e sarà il 23 di marzo, dalle 10 del mattino alle 17, che è un sabato, poi appunto, più avanti, verso la fine, mettiamo la locandina, e contattateci pure, poi mettiamo il numero, il numero è sempre il solito, 351-528-819, per iscrivervi, oppure se volete contattare Emiliano, cioè, possono contattare anche te, se eventualmente vogliono iscriversi, o è meglio che contattino noi, per iscriversi voi, se è una necessità, di una domanda sul seminario, risponderei a quello, più che altro, se sei... allora contattate noi, di Onda Vitale, che raccogliamo le iscrizioni, sei stato chiarissimo, per quanto riguarda, la presentazione del seminario, io avevo una domanda, però in parte, hai già risposto, però te la faccio lo stesso, allora, visto che per ora, non ci sono domande, fate pure domande, nel frattempo, ecco, ce n'è già una, però ti faccio un attimo questa, ci sono degli strumenti, e in parte l'hai già detto, o uno strumento, degli strumenti, per evitare di assorbire, troppo la negatività, che un po' ci circonda, ecco, tutto questo, anche sentire, queste cose allarmanti, questo, è vero che bisognerebbe, viverle con il dovuto distacco, ma non sempre si riesce, almeno, diversa gente, io inclusa, alcune volte, vacillo un po', e tendo a polarizzarmi, quando le immagini di guerra, cerco di non guardarne, però ogni tanto, emotivamente, è abbastanza pesante, da sostenere, ecco. Al seminario, sicuramente, è possibile, in ogni istante, fare domande, e chiedere specifici strumenti, o armi spirituali, per necessità puntuali, di ognuno, e andremo anche ai noccioli, per chi ha piacere di esplicitarli, e disattivarli, come programmi, o come idee, o concetti obsoleti, che hanno fatto il loro tempo. quel punto che tu dici, è un punto, che spesso sento dire, quello che viene veicolato, come energia, diciamo bassa, diciamo così, anche se bassa non è, comunque, quella qualità energetica, che esce dalla televisione, dal mainstream, se non ho ancora disattivato completamente, alcune cose a specchio, rispetto a ciò che viene promosso, mi dà fastidio, così come mi dà fastidio, se un vicino di casa, si comporta in un modo, in cui io non vorrei, è la stessa cosa, quindi, un'arma spirituale, è lo specchio, sicuramente, quindi, comprendere attraverso lo specchio, cosa riflette in me, quella notizia, di quei bambini, in Ucraina, cosa riflette in me, quella notizia, sono andata, già completamente, nel mio nero, dentro di me, o sto rifiutando qualcosa, del nero in me, probabilmente, c'è ancora qualcosa, se no, mi farei attraversare, da qualsiasi notizia, sono pronto, a essere attraversato, da qualsiasi notizia, no, probabilmente, non sono ancora morto, arma spirituale, imparare a morire, completamente, a noi stessi, ok, ciao, ok, grazie, ti faccio una domanda, di Sandra, domanda per il nostro coach, Emiliano, in un contesto familiare, dove esiste la presenza, di inconsapevolezza, e dunque ego, in presenza di adolescenti, quale arma utilizzare, quale arma posso, in questo contesto, utilizzare, o per meglio dire, adattare alla situazione, nella quale si è coinvolti, per non indietreggiare, nel mio risveglio spirituale, allora, con i ragazzi, va bene, va bene qualsiasi, di arma spirituale, condivisa con leggerezza, ludicità, chiarezza, onestà interiore, giocando, spesso, non imponendo nulla, rimanendo noi stessi, ma sapendo che l'altro, A, l'altro sono sempre io, B, l'altro non lo posso cambiare, in funzione di ciò che io ho compreso, l'altro no, quindi, ognuno ha il suo tempo, e i familiari che non hanno fatto dei passaggi, posso io sapere di essere in una direzione migliore della loro? Non lo posso sapere veramente, perché ognuno ha veramente la sua storia, il suo destino, e la sua scelta quotidiana, di cosa sentire, fare, dire, baciare, lettera, o testamento, e la seconda cosa che hai detto, per non indietreggiare, ecco, se la casa, che hai intuito, dentro, dentro, cara Sandra, di imparare ad abitare, a farla abitare, da ciò che sei, cioè la tua eternità, se poi ti assenti un attimo, viene abitata da altro. Ci sono due o tre parabole che parlano di questo, sia per il tema parassitaggio, sia per il tema entità, infatti, ma che si ancorano a nostri spazi lasciati, quando tu dici indietreggio spiritualmente, è una cosa che teoricamente non si può fare, perché tu sei lo spirito comunque, qui lo spirito è in qualsiasi cosa, visibile e invisibile, i cieli e la terra furono fatti, nelle cose visibili e invisibili, non ricordo se è in Genesi, quindi ogni cosa è la fonte, e quindi pensare di poter indietreggiare è apparentemente un pensiero, che va bene, ma probabilmente non è la verità assoluta, perché non possiamo indietreggiare, magari sì ci sembra, magari ti stai spostando momentaneamente dal centro, questo potrebbe essere, ma conoscendolo ti puoi rispostare lì, niente e nessuno ci può spostare da quella conoscenza della fonte che stiamo imparando a sentire, a far vibrare dentro di noi, per questo che dico spesso, l'allenamento poi è stabilizzare quel contatto, e non perdere il contatto, sicuramente. Hai ragione, sì. Non ho ragione, e non ho neanche torto, ti esprimo semplicemente quello che sento in questo istante, occhio a non vibrare, cosa ha scritto? Siego? Sì, Ego che parla, il mio. Ok, ok, ma è tutto lì, il gioco poi finalmente, è tutto lì, la battaglia finale che stiamo vedendo, praticamente l'ultimo capitolo della saga, è la terza guerra mondiale tra Ego e coscienza, è quella lì la battaglia finale, e le armi spirituali della fonte in noi ci permettono di completare l'opera, perché in realtà abbiamo già vinto, non c'è da vincere su niente, c'è solo, faremo una meditazione profonda chiamata la resa, che è sia la resa dei conti, sia la resa degli arconti, sia la resa dei conti, sia la resa degli arconti, ma sia la resa vera, la resa vera per il nostro Ego, è uno scacco matto, perché siamo stati abituati a lottare per il ruolo, a lottare per il lavoro, le donne lottare per emergere in questa società maschilista, lottare con sforzo e sofferenza, e va bene, in parte momentaneamente la sofferenza può essere utile, per poi spostarci nel dolore, scaricarlo, e essere l'amore, e essere la pace, e essere la coscienza, e va bene, ma poi questo atteggiamento, che è un vecchio modello, c'è un nuovo modello, più coscienziale ovviamente, che è quello di affidarci dentro, appoggiarci dentro, rilassarci nel divano della coscienza. Io penso una cosa, che uno degli aspetti importanti sia quello di vedere la realtà, distaccandosi dalla realtà, e concentrarsi su quello che abbiamo dentro noi, con la coscienza, con la nostra essenza, e non farci trasportare da un mondo che ormai ti porta dove vuole, quindi più ti distacchi, e chiaramente al mondo di oggi, c'è collegato tanto l'ego, la competizione, tutta una serie di caratteristiche, che ci allontanano da quello che siamo noi, veramente come essere umano, poi fondamentalmente credo, e quindi guardare la realtà, ma distaccarsi dalla realtà, non farsi trasportare da tutta una serie di concetti, che girano oggi particolarmente, ancora di più di ieri, perché si vuole spostare la gente da una parte all'altra, distaccarci, vedere come da spettatori tutto quello che succede, ed è lì che abbiamo maggiormente la possibilità di collegarci con le nostre forze interiori, con la nostra coscienza, poi penso, no? Sono d'accordissimo su ogni parola che hai detto, caro Carlo. Grazie. Alt, però, io voglio fare una precisazione, ma forse perché ha più un mio bisogno, credo, non è, cioè, come avevi detto già anche l'anno scorso, perché sono io che ogni tanto confondo questa cosa, il fatto di stare distaccati, come dice Carlo giustamente, non farsi coinvolgere troppo da questa diatriba, a destra, a sinistra, sopra, sotto, eccetera, va bene, ma questo non vuol dire non scegliere, giusto? Cioè, io ho comunque una mia visione, una mia idea, scelgo una cosa che mi risuona piuttosto che un'altra, no, perché non mi risuona. Quindi non vuol dire essere i gnavi, giusto? Vuol dire scegliere, ma con il dovuto distacco, cioè, non farsi coinvolgere troppo in questa, polarizzarsi troppo, ecco, così tu intendi, giusto? Perché... io parlavo dal punto di vista emotivamente, non lasciarsi trasportare, poi certo, tu da essere umano hai un tuo pensiero e quindi hai una tua scelta, ma emotivamente non lasciarsi trasportare, perché è quello il problema maggiore, non il discorso del non scegliere, di razionalità, che è chiaramente, è chiaro che hai una tua idea, non puoi dire che non esiste, perché se no, beh, allora saresti totalmente annullato, ma non lasciarsi trasportare emotivamente su percorsi che possono essere pericolosi. Infatti, Carlo e Melissa, per la personalità c'è bisogno di una scelta, scegliere di qua, scegliere di là, faccio questo corso, faccio, ascolto questa conferenza, leggo quel libro, frequento quelle persone o quelle altre, eccetera, ma quando mi lascio trasportare dalla corrente della coscienza, quando mi arrendo veramente a ciò che sono, non c'è più scelta, cioè, vedere l'invisibile, magari ancora cadere e ci sta, ma sai che oltre pillola rossa a pillola blu, sia che vai di qua o che vai di là, stai andando, stai tornando a casa, fondamentalmente, sei già a casa e stai andando verso casa e non puoi fare altro che dirigerti verso quell'ascolto interiore che ti dice qualsiasi scelta farai, quello è l'obiettivo e lì arriverai, che poi non è neanche così, è qualsiasi scelta farai, tu sei già a coscienza. Chiara dice è un periodo in cui siamo sotto esame, a me sembra. Esatto, infatti si chiama esame di coscienza, siamo nell'esame di coscienza, siamo nella presa di coscienza, siamo nella consapevolezza della coscienza, scusami, chi ha fatto la domanda al nome? Chiara, 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 che implicitamente hai il compito di essere chiara, ovviamente con te stessa e con gli altri, ovviamente siamo sotto esame, infatti le stangate esterne sono l'esame che ci porta a dirci se a che punto dell'esame siamo, se ci stiamo autopromovendo, se ci stiamo autogocciando, se stiamo passando l'esame, se ci facciamo attraversare dall'esame o se ci sentiamo ancora con il giudice in interiore con il dito puntato verso di noi, sbagliati, in colpa, eccetera, ma se l'esame è coscienziale sappiamo che è perfetto e completo così com'è e lo riceviamo di buon grado ogni esame, proprio perché è come fare la, andare a fare un esame in ospedale, chiediamo l'appuntamento, siamo consapevoli che abbiamo bisogno di quell'esame per fare una lastra, la coscienza ci fa lo screening costantemente, mente, corpo, spirito, anima, coscienza, sentimenti, destra, sinistra, vite passate, vite future, vite parallele, in contemporanea, continua a fare uno screening, poi sta a noi ricapitolare indietro, ricapitolare davanti, ricapitolare su, ricapitolare giù, riordinare, riorganizzare, ridimensionare, ri, 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 per tornare a essere questa benedetta essenza che è lì, che ci osserva, se la ride ogni tanto e vede i nostri passaggi e grazie agli esami che lei manifesta, lei, noi, perché lei, lo stiamo spiegando come lei, ma in realtà siamo sempre noi, che ci creiamo come creatori della realtà collettivamente, individualmente, le manifestazioni, le creazioni perfette per stare sotto impulso dell'esame con i pesi, come abbiamo sempre fatto, in questa difficoltà e densità o viverci con gioia e divertimento questi esami divertenti, poi alla fine. Per ora, non ci sono altre domande, ma quindi il libero arbitrio esiste a questo punto? Esiste e non esiste. Noi abbiamo lo strumento del libero arbitrio, cioè nella coscienza, la domanda è sempre questa, a chi sto ponendo la domanda? La sto ponendo alla personalità, alla mente che vive da sola o la sto ponendo a una mente pacificata che sottostà alle leggi coscienziali? Quindi, a seconda dell'interlocutore, e quindi io posso farmi una domanda alla mente che vive separata o alla mente che vive unificata con la coscienza. Per la mente separata il libero arbitrio è uno strumento che penso di avere una scelta, avere voce in capitolo, decido io della mia vita, le mie convinzioni, faccio questo, faccio quest'altro, e quindi ci entro un po' con il carattere, di carattere. Quando invece ho trasformato il grosso in me stesso e sono più la parte profonda di me, il libero arbitrio è arma spirituale, sia fatta la tua volontà e non la mia. e lì si chiude il cerchio perché quando vivo a capocchino dentro di me non per seguire diktat esterni ma per seguire inviti gentili interni perché non sono diktat quelli interni, sono solo inviti come cara Rossella ti invito al mio compleanno, non ti sto obbligando a venire. Poi sono le persone che si sentono obbligate ad andare al matrimonio o compleanno perché sennò fai brutta figura e quello è un lavoro interiore che uno se la smazza per conto proprio. Nella libertà coscienziale io posso invitarti in un posto poi io non mi offendo se non vieni non è che se non vieni come a sud Italia o in sud io ho vissuto in sud America ma sono stato spesso in sud Italia che ci sono regole impossibili se non vai all'invito si offendono spesso è guai a non andare a un invito alla domenica a una grigliata o a un evento dove ci sono familiari eccetera è anche bella come usanza l'effetto poi di prendersela un po' meno ecco non ci sono altre domande per ora no vabbè abbiamo già detto sì allora io intanto abbiamo già detto quello che possiamo dire condivido un attimo il tuo è arrivata Sandra Sacco Sandra Sacco bis ah sì è una domanda l'ho letta adesso è arrivata fuori ah ok le azioni stavo condividendo la locandina e quindi eccolo qua il seminario del 23 marzo dalle ore 10 alle ore 17 a Bergamo cioè abbiamo messo a Bergamo ma in realtà a Seriate che è un paese appena alle porte di Bergamo qualche chilometro cercheremo di deserializzare Seriate perché Seriate questa città un po' seria misteriosa anche anche la serata con Oliviero e Limardo è sempre a Seriate sempre lì sempre lì è un paese che ci accoglie forse c'è una domanda che eh sì è di ah ok quella di Sandra ok le azioni giuste intendo quelle fatte per aiutare a smuovere le altre coscienze ah ah bis sono armi che possono tenermi continuamente collegata volevo scusa volevo spiegarmi bene ok e niente direi penso che ci sei riuscita sì spero di esserci riuscita le azioni ci sei riuscita ci sei riuscita sì sì e poi cara Sandra azioni giuste e sbagliate ci sono le azioni che creano le esperienze ehm e attraverso le esperienze diventiamo più esperti del campo più esperti della matrice più esperti del nostro sentire diventiamo più esperti quindi io non sono esperto io non sono esperto di nulla ma sono un po' esperto di come si muove dentro e fuori ciao Sandra come si muove dentro l'interiorità e sono un po' pratico di come leggere il campo di come leggere l'ambiente come leggere una persona più che leggere un libro di come leggere in questo momento come pensano i francesi ma di là del tema politico qual è lo stato coscienziale dei francesi in questo momento ecco mettersi lì e captare sentire biorisonanza quantistica con il corpo ecco ho allenato tanto il sesto senso ecco questo sicuramente l'ho allenato parecchio e trasferisco come si fa ecco molto importante ok è viva scrive perfetto è viva è viva è non morta è non morta ecco è viva è viva esatto è vero io ringrazio Onda Vitale ringrazio Melissa e ringrazio Carlo ma ringrazio Sandra Flavio e company perché vedevo solo loro prima ok Chiara eccetera eccetera Alberto c'è anche l'Alberto me ne sono accorto adesso ciao Alberto Veneto e io vi ringrazio spero sia stato di vostro gradimento questo cappello questa presentazione del seminario questa anticipazione e quindi comunque chi vuole iscriversi manda un messaggio whatsapp sul 351 582 88 stiamo prendendo le iscrizioni quindi ci sono ancora dieci giorni per cui qui hanno scritto grazie davvero interessante e piacevole ascoltarti gessi 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 immagino Jessica forse stiamo imparando a togliere i gessi a togliere i gessi come quando togliamo il gesso da una frattura stiamo imparando stiamo in un processo di cura in contemporanea di togliere il gesso che è utile ma momentaneamente è utile per curare quella cosa ma poi lo tolgo fondamentalmente perché devo ritornare flessibile dinamico e muovermi a volte mi chiedo sì cosa porta il mio nome in parte te l'ho detto esatto meno rigidità bravissima ti sei risposta da sola il gesso prevede proprio una fissità ecco poi vabbè chi parteciperà come si può intuire come uso le parole come le indago come mi soffermo faremo sono un docente pure di me stessa esatto punto fondamentale giocheremo molto con le parole a seconda di quello che accade è molto importante bene molto bene anche questo utilizzo delle parole così soffermarsi sulle parole è molto interessante svela molte cose diciamo bello è molto importante molto importante vero ogni parola poi io ho la mia vision in quel momento se noi prendiamo se noi prendiamo una parola ognuno di noi ha la sua punto di osservazione al di là dell'etimologia della semantica intendo la lettura l'abbiamo già fatto forse anche l'anno scorso questi giochini ma spesso poi ci becchi come quando fai una battuta per caso non è per caso e fai una battuta e ah sai che facendo quella battuta mi hai fatto pensare vero è vero è sempre per captare cogliere è nulla in realtà esatto esatto verissimo io faccio latino e poesia gioco con le parole e spiego ai ragazzi che con le parole diamo forma al mondo benissimo perfetto bello esatto mi sto tenendo nel cassetto due tre conferenze o corsi proprio su questo potere del verbo potere del linguaggio eh sì è che io sono sono innamorato pazzo del linguaggio proprio sto cercando di sintetizzare il linguaggio per comunicare tutti con tutti nonostante la lingua diversa e questo è un lavoro che sto portando avanti molto interessante bello come legger come leggerci come parlarci anche se l'altro è cinese madonna o coreano e riuscire comunque a comunicare con lo sguardo con col cuore con il corpo con linguaggio universale linguaggio universale bello in principio era il verbo eh sì infatti la vibrazione in principio era il verbo della parola bellissimo molto molto interessante benissimo vedo un cagnolino dietro dietro di te ho visto prima che si andava a sedere ecco ah due due che belli che fanno la nanna Matteo e Rebecca Matteo e Rebecca? Matteo ah per cui bello numerosa allora ma gli altri tre sono gatti? gatti 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 anche tu amante di animali lo sapevo perché mi ricordavo sono troppo belli sì 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 sono super nutrienti per l'anima sì ma infatti anche qui io ho due gatti da tre mesi sono abbastanza cuccioli ancora hanno otto nove mesi e Melissa altri due gatti siamo mezzo agli animali siamo animali muniti animali muniti l'importante è non essere sci muniti eh perché quello è quello che non c'è essere un po' rischioso no sulla neve tu puoi essere sci munito tu vai in giro con lo sci esatto ma in città è un pochino un po' diversa la cosa non è molto pratico se faccio delle battute spiritose sulla neve mentre gli sci posso essere sci munito da una parte sci munito dall'altra e allora il concetto è vero è vero è vero benissimo allora direi che se non ci sono altre domande possiamo andare verso la giusto grazie a tutti giusto stampe scattare le ore 22 l'arma spirituale il grazie a tutti è l'arma spirituale finale la grazia il grazie è la grazia sì fatevi vedere un po' questi volti cioè ragazzi non è che siete agenti segreti in missione ma è in missione adesso l'agente segreto in missione adesso in missione un frate Alberto lo conosco chi non si vuole far vedere non si faccia vedere intanto siamo comunque invisibili la coscienza è invisibile i campi elettromagnetici sono invisibili Paola è un po' nell'ombra adesso si va nella luce si è palesata Paola vai nella luce no adesso nell'ombra un po' nell'ombra ma c'è il sole sembrava il sole è arrivato un raggio di sole magari è collegata dall'Australia ciao Chiara ok tante belle faccette la grazia anticamente il grazie qui ci stiamo dicendo adesso grazie a tutti ciao buonanotte o quando incontri qualcuno grazie grazie è che la grazia sia con te che le grazie siano con te che lo stato di grazia scenda in tutti i tuoi corpi sottili dentro di te fuori di te eccetera è molto potente come cosa noi diciamo ah sì grazie ciao e invece no e invece bellissimo è bellissimo a me anticamente era così ma infatti la risposta era prego che sia così ah sì o prego anch'io per te ma poi è connesso al namaste tutti i saluti sono più o meno correlati grazie a tutti grazie a onda vitale grazie grazie a te con gioia e con simpatia e con infinita gratitudine come ha scritto Maria Caterina esatto grazie fu una delle prime parole esatto esatto delle sue prime parole quando era bambina forse se ho capito grazie fu una delle mie prime parole scusami eh brava Jessica brava Jessica non male come prima parola prime parole grazie è venuta al mondo ridendo e non piangendo Jessica è una delle prime bambine che arrivò qua e rise perché non è poco bene va bene grazie ancora a tutti grazie a tutti grazie Emiliano noi ci vediamo il 23 di marzo ci vediamo il 23 con tanta leggerezza un abbraccio forte a tutti grazie buonanotte ciao 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 ciao